ragazzi ciao a tutti mi raccomando mi raccomando riprendiamo le iscrizioni per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis cliccando semplicemente su iscriviti ed attivando la campanellina perché torneremo con le live e torneremo a parlare con voi torneremo a confrontarci con voi perché secondo me la strada ormai è tracciata visto anche i tweet istituzionali come abbiamo detto ieri perché ci sono stati dei tweet istituzionali per quanto riguarda eh figure di un certo rilievo in Arabia Saudita ci sono in ballo dei ministri e delle figure istituzionali eh i quali tra l'altro stanno dando eh un grande risalto a questo accordo che ha del clamoroso ma nessuno ha notato una cosa ovvero sia per allora innanzitutto bisogna farsi una domanda perché Oktri non ha sviluppato il brand in USA in USA perché non c'è nessuna presenza di Oktri non c'è nessun membro di Oktri in queste foto che stanno facendo la storia perché l'Inter è il primo club al mondo a poter investire in Arabia Saudita ma gli investimenti in Arabia Saudita non verranno fatti con Oktri. Oktri investirà secondo voi tramite soldoni in Arabia Saudita per l'Inter? Non penso proprio il brand ormai il brand Inter quello che bisogna sottolineare a mio avviso è che il brand Inter è stato lanciato a trecentosessanta gradi in Arabia Saudita perché la proprietà sarà dell'Arabia Saudita l'Inter diventerà dell'Arabia Saudita e ricordo anche che due anni fa ci fu una responsabilità sociale sempre tramite la l'Arabia Saudita con gli arabi che vennero a Milano. Tra l'altro chissà perché non questa questo accordo diciamo che ha del clamoroso non viene fatto né da Real Madrid né da Manchester United come ha detto anche Fabio Bergomi il saluto né da Bayern Monaco che hanno una visibilità stellare con altrettanto eh fatturati stellari viene fatta all'Inter eh in Italia chissà perché un accordo del genere non l'ha fatta la Juve che avevano dato già degli arabi il Milan che era già di pif paf e puff anche il Milan era già arabo chissà perché non lo fa il Milan non l'ha fatto il Milan questo accordo clamoroso o perché non lo fa la Roma che era già stata acquistata da Piff un mese fa o perché non lo fa il Paris Saint Germain non lo fa il City che tra l'altro sono anche imparentati con questi signori dell'Arabia Saudita perché l'Inter ma guarda che caso incomincia io te lo dico reverendo incomincia a correre fidati lo scantinato sono io quando il reverendo parla dello scantinato parla parla del mio ufficio perché questo fondamentalmente lei è il mio ufficio quindi il reverendo parla pure dello scantinato questi accordi cosa permettono proprio nell'immediatezza questi accordi tra Inter e Arabia Saudita ehm permettono di aumentare subito il fatturato e di andare verso un pareggio di bilancio ormai scontato tra l'altro nessuno fateci caso nessuno sta parlando di cifre le cifre la sanno solo ed esclusivamente i principali attori eh quindi come ho detto prima il brand Inter ormai è stato lanciato come un cannone in Arabia Saudita la rotta è tracciata noi saremo eh parte dell'Arabia Saudita anche io io parlo in termini di proprietà e l'Inter va alla conquista dell'Arabia Saudita per così dire anche con due sponsor eh che sono Qatar Highways e tra l'altro e mh e visit Qatar quindi eh la linea secondo me ripeto è tracciata l'Inter deve eh cambiare proprietà il prossimo anno questa è una squadra che va rifondata per un settanta per cento servirebbero il prossimo anno servono duecento milioni per mettere su una squadra competitiva troppi giocatori in avanti con l'età tanti giocatori che però stanno dando tutto e io di questo sono contento perché ripeto quest'anno io prendo quello che viene senza arrabbiarmi perché quando investi zero non puoi pretendere nulla soprattutto in uno sport come il calcio dove ti può andare bene un anno con i parametri zero e due ma poi dopo alla fine eh ti portano il conto da pagare per quello che riguarda proprio questo discorso qua in conclusione di video quello che ti posso dire io è che quando arrivò arrivarono Zelischi e Taremi io dissi saranno due acquisti e purtroppo a noi ci daranno una mano fino ad un certo punto soprattutto parliamo del polacco che a livello calcistico a me piace e purtroppo da quando è arrivato all'Inter questo è il quarto se non il quinto infortunio elongazione muscolare le le uno stiramento ragazzi si è stirato si è fatto male se l'ha fatto male la volta scorsa si fece male in preparazione e il quarto il quinto infortunio purtroppo Zelischi che se fatto e sappia giocare a calcio eh non lo dobbiamo dire a nessuno lo sanno tutti ma il problema di Zelischi ormai è fisico perché negli ultimi due anni Zelischi a livello fisico purtroppo eh non c'è più quindi eh lo prendiamo per quello che è per quello che ci può dare secondo me Zelischi era ottimo per certi versi anche fondamentale per fargli fare gli ultimi trenta quaranta minuti barra un tempo perché anche quando sta bene Zelischi ormai è un calciatore che non tiene più novanta minuti e l'abbiamo visto anche in nazionale dove spesso viene sostituito al sessantesimo quindi eh quanto spendi quanto appendi c'è un detto che non viene detto solamente in Toscana comunque questo è un movimento eh dell'Inter in Arabia Saudita stratosferico che molti stanno sottovalutando e alla fine si comincia a vedere qualche cammello io americani non li vedo non vedo gli americani canandesi nelle foto con gli arabi vedo solamente arabi e inter negli ultimi due anni e poi aspettiamo la ciliegina finale perché per come la vediamo noi per come la vedo io me la prendo le responsabilità l'Inter sarà saudita di quella famiglia al Saud di cui parlavano solo le ventiquattro ore i Corriere della Sera la Repubblica e via discorrendo parlavano quasi di firme fatte di accordi fatti quattro mesi fa non penso che abbiano buttato tutto a mare e questo è un movimento che ti fa capire che siamo legati ad un filo logico ciao Inter